Pasta e riso, ma anche zuppe, gnocchi e polenta, il tutto condito con i prodotti agroalimentari del territorio. Ecco gli ingredienti indispensabili per la creazione di un gustoso primo che sarà l'assoluto re della tavola nel primo fine settimana del mese di aprile. 1, 2 e 3 aprile è di scena infatti a Castiglion Fiorentino il Festival del Primo, la rassegna dei primi piatti a cura dei ristoratori della città. Una manifestazione che vede insieme al comune l'organizzazione della Proloco con il patrocinio delle associazioni di categoria sia del commercio che del comparto agricolo. Il Festival del Primo è un'iniziativa promozionale creata ad hoc per incentivare il consumo dei primi piatti all'interno dei menù proposti dai ristoratori, promuovendo al contempo sia l'esercizio commerciale che un prodotto a filiera corta che ha dato e sta dando impulso ad una produzione tipica locale. L'iniziativa si prefigge di sviluppare una campagna di sensibilizzazione sul valore della pasta quale produzione tipica locale, a cui associare le preziose capacità dei cuochi per la sua trasformazione in raffinate esperienze culinarie. L'intenzione è quella di far emergere attraverso il cibo la forza delle nostre tradizioni gastronomiche, ha dichiarato l'assessore alle attività produttive e all'agricoltura Francesca Sebastiani. È solo una delle iniziative che intendiamo intraprendere a sostegno, dice il sindaco Mario Agnelli, di una delle categorie economiche che ha maggiormente subito perdite a causa dell'emergenza sanitaria.